Crutch, bind, set. Benvenuti cari amici del canale Dumpat Rugby e anche oggi si parla di rugby con un po' di ritardo arriva il 15 della settimana. Il 15 della settimana che di solito faccio uscire il lunedì, devo dirvi la verità, era pronto, era pronto lo script, però questa settimana esce il martedì. Perché? Perché ieri ho fatto una maratona di creazione di contenuti, perché insomma prima ci sono state le convocazioni di Kieran Crowley e quindi ho voluto far uscire subito immediatamente il video per commentare quello che poi è una delle cose più interessanti del rugby italiano, la nazionale italiana. Alla fine ci piace tutto, però quando gioca la nazionale è la nazionale, allora le convocazioni andavano commentate. Due, abbiamo fatto una splendida intervista, veramente splendida, disponibilissimo, arricchente German Fernandez, a punto di incontro, episodio numero due di questo nuovo formato dove in live andrò a intervistare i protagonisti del rugby italiano. A proposito, un annuncio, un annuncio giovedì Antonio Raimondi. Vanno, 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 giovedì Antonio Raimondi. Dopo vi dirò l'orario esatto, vi dirò tutti i dettagli, però insomma, preparatevi intanto già le domande. Alle sette, giovedì alle sette, Antonio Raimondi. Quindi, dicevo, ieri c'è stata queste due cose e poi la sera ho registrato anche leone fuori, quindi ero esausto, ho detto, no vabbè, la gente si stuferà se li faccio uscire anche il video del quindice della settimana. Vabbè, ascoltarmi, vi ringrazio per il tempo che mi dedicate, però un po' rompo anche le scatole, immagino. No, spero di no. Va bene. Allora, quindici della settimana, bando alle ciance, come si suol dire, quindici della settimana, partiamo. Allora, sto perfezionando un po' il processo di selezione. Perché? Perché, come l'ho detto, è impossibile vedere venti partite alla settimana, più questa settimana c'era anche i quarti di finale dell'MPC, più la Coppa del Mondo femminile, e lì sono altre sei partite, quindi veramente si trattava di trenta partite. E allora mi affido un po' uno, ai quindici della settimana che vengono selezionati il lunedì. Per quello che riguarda lo URC, prendo come punto di riferimento RTE, il sito irlandese che è quello che lo fa uscire prima. Per quello che riguarda la Premiership, invece, il quindice della settimana del Telegraph, e per quello che riguarda il campionato francese, il quindice della settimana del MidiOlympique, che è un po' il sito di riferimento del rugby francese. In più, questa settimana c'era anche, appunto, la Coppa del Mondo femminile, e quindi sono anche andato a prendermi il quindice della settimana di World Rugby. Tra i quattro candidati, barra candidate, scelgo io il mio migliore, andando a rivedermi un po' le prestazioni, e poi se c'è qualcosa che io ho notato che mi ha particolarmente colpito, lo inserisco ed eventualmente lo promuovo anche. Quindi adesso vediamo perché qualcosina c'è. Allora, numero uno. Mi sono reso conto che vado un po' troppo lungo nella descrizione, quindi vi farò la descrizione solamente del prescelto, diciamo, di quello che si metterà la maglia sulle spalle. Allora, numero uno, per Bayonne scelto Cormenier. Per lo UFC, interessante, ecco, subito smentisco quello che ho appena detto, perché due parole le devo dire. Per lo UFC, interessante perché RTE sceglie Ivan Nehmer, che tra tutti i giocatori del Benetton non era uno di quelli che io avevo candidato a Man of the Match, però si vede che agli analisti irlandesi ha impressionato molto la prestazione, secondo me, soprattutto all'inizio in mischia chiusa del nostro bel piloncino sinistro, quindi il pilone sinistro della settimana in UFC e Ivan Nehmer. Poi, per la Coppa del Mondo Femminile, altra scelta particolare, Hope Rogers, la pilone sinistro degli Stati Uniti. Sì, per il lavoro iniziale in mischia chiusa, anche se poi va detto che gli italiani sono fantastiche nel riuscire a risponderli pan per focaccia, però anche poi per il grande, grande lavoro nel gioco aperto. Un sacco di placaggi, stiamo parlando di una delle migliori piloni assolutamente del panorama internazionale. Scelto però come numero uno del nostro quindice della settimana, Val Rapava Ruskin. Saranno contenti i tifosi di Gloucester? Sarà contento Ottavio, tra l'altro stasera non riusciamo a fare live. Dopo ve lo riconfermo, stasera non riusciamo a fare la live. Perché? Perché impegnato, perché in viaggio Ottavio. Comunque avevo detto, Val Rapava Ruskin, Gloucester di origine giorgiana, nato in Georgia, ha anche giocato nell'under 19 della Georgia, però elegibile inglese, è stato già nel gruppo di Eddie Jones pre Coppa del Mondo 2019, non ancora Cuppet e quindi teoricamente potrebbe giocare ancora sia per la Georgia che per l'Inghilterra. Prima titolarità quest'anno, 18 placaggi nel gioco aperto, costante minaccia in attacco e un'arma in più per Gloucester anche in mischia chiusa. Qualcuno scrive che non sfigurerebbe con una maglia bianca e una rosa lì inglese. Vediamo, vediamo, vediamo che cosa succederà. Numero due, allora, le citazioni Dave Heffernan di Connacht, Yacht Yandel dei Chiefs e Coltman di Lione. Però la nostra numero due questa settimana va a una giocatrice del Canada. Emily Tutosi, Canada, attenzione perché ce la troveremo di fronte la settimana prossima. Doppietta da Driving Mall, classica dei tallonatori e tripletta da pick and go. Sarà una bella sfida con la nostra Bettoni. A proposito di Bettoni, anche la Bettoni l'ho messa nelle citazioni perché se lo merita, perché insomma ha fatto una partita veramente ottima, sia in rimessa laterale e sia nel gioco aperto in difesa. Poi è riuscita a restare in campo quando tutti pensavano che sarebbe uscita per un colpo al costato. Ecco, veramente, veramente importante la prestazione anche della nostra Bettoni. Numero tre. Allora, le citazioni per Melikiz dello Stato Francais. Bavava Laccia, la pilone destra del Sudafrica. Jamalford Robinson del Gloucester. Ma la maglia numero tre va a Finn Bellam del Connacht. Vince la battaglia con Kilconi. Andy Friend lo definisce sensational. Splendido del breakdown. Forte in mischia chiusa. Divertente negli spogliatoi. Ci sono dei video dove poi festeggiava con la squadra la sua nomina a Man of the Match e noi gli diamo la numero tre di questa settimana. Numero quattro. Ecco, il primo a ripetersi. Questa settimana credo che è solo lui che si ripete, che l'abbiamo già visto nelle settimane scorse. Allora dai, diamo subito la numero quattro e facciamo poi le citazioni. Johnny Gray. Johnny Gray, spettacolare dei Chiefs, spettacolare nello stile. Fa una rubata in rimessa laterale importantissima, però utilissimo in tutte le intangible. Che cosa sono le intangible? Tutte quelle piccole cose che magari non entrano nelle statistiche, ma sono stra-importanti per costruire il risultato della squadra. Citazioni. Thornbury di Connacht, Abbey Ward dell'Inghilterra femminile e Peters di Castre. Numero cinque. Ecco, numero cinque ha fatto un'eccezione. Sono andato fuori classifica. Mi spiace, però mi ha veramente colpito la prestazione di... forse avete già capito. Citazioni. Chosenwood del Racing, Johnny Hill di Sale, Theo McFarland che la settimana scorsa si era presa la maglia di tutolare questa settimana, cambia di posizione il Samuano e dei Saracens e entra comunque come miglior giocatore della Premiership di questa settimana. Nel mondiale femminile viene segnalata da World Rugby la nostra Tonesi. Complimenti. Partita spettacolare e meriterebbe che mi fermassi qui a parlarne ancora di più, ma lo facciamo domani nella live, non domani, dopo domani, nella live con Lorenzo delle Due, quando parleremo di nazionale italiana femminile, ma la numero cinque di questa settimana la voglio dare a Federico Ruzza e a chi se no. Come hanno fatto a non sceglierlo quelli di RTE? Gli hanno preferito... gli hanno preferito... ah, non ce l'ho nemmeno, non ce l'ho nemmeno qui. Va bene, comunque non l'hanno scelto, hanno preferito qualcun altro, adesso me lo sono dimenticato, comunque Federico Ruzza ha fatto una prestazione veramente incredibile in tutto. C'era un certo momento nella live dove io ho detto, vabbè, prende le rimesse, difende, tira indietro, scappa, organizza quella meta con offload, con cambio di corsa, veramente da farci strabuzzare gli occhi. Insomma, quanto è importante Federico Ruzza per questo bel benetton che abbiamo già visto con tre vittorie nelle prime quattro partite. Numero sei. Allora, numero sei, le citazioni vanno per Nick Timoney dell'Alster per Babio del Racing, ma la titolare la diamo a, anche qui, a una ragazza, a Rachel Malcolm. Rachel Malcolm della Scozia. Hanno perso all'ultimo minuto, però la maglia titolare se la prende semplicemente perché è la giocatrice, slash giocatore, che ha finito il weekend con il numero più alto di placaggi. Ventiquattro. Ventiquattro. Tra l'altro, andando a vedere le statistiche, a pari merito con la sua dirimpettaia Callander Gall del Galles, anche lei ventiquattro. Insomma, questo ci dà anche la misura dell'intensità che c'è stata in quella partita lì. Scozia-Galles risolta all'ultimo secondo con un calcio di punizione. Rachel Malcolm, la nostra, numero sei. Numero sette. Citazioni. Allora, World Rugby, per quello che riguarda il mondiale femminile, inserisce Giada Franco. Siamo molto contenti per lei. Anzi, no, scusate, scusate, l'ho inserita io Giada Franco. World Rugby inserisce Sadia Cabea. Io ci aggiungo Giada Franco, man of the match della partita probabilmente più emozionante, ma non solo perché siamo noi italiani, perché è stato l'unico upset, l'unica vera sorpresa del fine settimana nel mondiale femminile. Poi, e quindi Giada Franco, poi Diallo del Racing, Tom Curry di Sale, ma la maglia numero sei, numero sette titolare di questa settimana la diamo a un giocatore dei Lions. Lions che stanno veramente sorprendendo lo UFC, sono per adesso la squadra probabilmente più inaspettata e parliamo di un ragazzo inaspettato perché è un diciannovenne. Quindi attenzione, come al solito, taccuino, penne taccuino, segnatevi questo nome, Ruan Venter. Quindici placaggi dominante su niente po' di meno che Amish Watson. Quindi Ruan Venter, la nostra rising star della settimana. Numero otto. Citazione dal mondiale Sophie de Godi del Canada. Attenzione, un'altra che ritroveremo sabato. Bota del Lione, Richard Capstick in Inghilterra, dei Chiefs. Manca la numero otto, premiamo un altro Lions. Un altro Lions, Frankie Horns. Carries, impatti, una menta decisiva e il man of the match è il nostro numero otto della settimana. Numero nove. Allora, citazioni. Nel femminile una citazione simpatia da parte di World Rugby perché si sono comunque prese una bella scoppola. La mediano di mischia del Giappone, Megumi Ave. In Inghilterra, Rafi Quirk del Sale. Tornava da un infortunio e si prende subito l'MVP di settimana della Premiership. Occhio alla concorrenza per quella maglia numero nove della nazionale inglese in Francia. In Francia, numero nove, aspetta chi? Ma sì, Antoine Dupont, ecco. Si era già preso due volte la titolare. Questa settimana di nuovo migliore in Francia, però all around la numero nove se la prende George Horn, Glasgow. Se avete visto la partita di Glasgow, veramente una bella partita degli scozzesi di Franco Smith contro il Bulls e il protagonista assoluto, assoluto di quella partita sia nel gioco sia al piede, ma veramente ogni pallone che toccava sembrava che stesse per nascere qualcosa. E il mediano di mischia di Glasgow, George Horn. Numero dieci, le aperture. Allora, per quello che riguarda le aperture, citazioni, Wasps in Inghilterra, Charlie Atkinson in Irlanda. Attenzione, abbiamo prima detto Dupont, ecco che i grossi calibri si sono fatti sentire questa settimana perché Johnny Sexton è la citazione per lo UFC. Ai mondiali, l'apertura delle Blacks Firms, Roy Demand, ma la numero dieci questa settimana è il nostro Player of the Week. Player of the Week, lo diamo a Tomas Ramos. Tomas Ramos, che geniaccio di giocatore, che genio di giocatore. Per farvi capire la prestazione di Tomas Ramos, vi dico solo che sentivo un commento di una pagina YouTube, tifosi dello Stato Illusion e si chiedevano, ma siamo sicuri che quando torna Ntamac, facciamo giocare Ntamac e non Tomas Ramos. Ecco, detto tutto, detto tutto. Poi si autorispondevano, sì, ovvio, perché comunque Ntamac per la nazionale francese, loro si auguravano Ntamac che al suo ritorno magari potesse occupare la posizione di centro a fianco a Tomas Ramos, visto il tasso di talento incredibile che hanno alle ali all'estremo, nel triangolo allargato, e le opzioni che hanno all'apertura. Probabilmente non sarà così, probabilmente Tomas Ramos resterà la prima opzione all'estremo, sia Ntamac che Capuozzo si dovranno adattare o a giocare in un'altra posizione o ad aspettare il loro turno, un vero e proprio genio. Se noi pensiamo che Tomas Ramos in nazionale non è titolare, non è titolare perché Ntamac ha la posizione di dieci davanti e all'arriere a Jaminet che in club gli sta dietro, però in nazionale gli sta davanti. Altra particolarità, ci rendiamo conto del tasso di qualità che c'è in Francia in quelle posizioni. Tomas Ramos, nostro player of the week. E a proposito di calibri pesanti, a proposito di calibri pesanti, adesso qua ve ne spariamo un altro, però prima le citazioni. Allora, Takir Abrams degli Sharks, Abby Doe dell'Inghilterra al suo ritorno. Ha giocato pochi minuti, però la vogliamo citare assolutamente perché tornava da un infortunio lunghissimo e dolorosissimo. Arriva e subito mette a sedere tre figiane per andare a fare una meta clamorosa, così come doppietta di mete clamorose la fa la nostra Aura Muzzo, che entra invece nel 15 of the week di World Rugby. Olly Woodbourne di Exeter, però la numero 11 parlavamo di calibri pesanti, di nomi che fanno rumore e allora torna e passano tre minuti per la sua prima meta. Tolone, Chesling Colbert. Chesling Colbert, basta, basta, non vi dico più niente, vi dico nome e cognome. Chesling Colbert. Numero 12, citazioni, Anna Jones del Galles, Oakshove, Connacht, Nick Tompkins, Nick Tompkins, Scarletts, adesso mi sono, perché ho sbagliato a scrivere, ho sbagliato a scrivere, adesso, veloce, 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 bam bam bam, non voglio, non voglio fermarmi, no scusate, eh, Dragons, 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 Nick Tompkins, dei Dragons, era contro, era contro Treviso, vabbè, andiamo avanti, mi sono, mi sono impappinato qui su Nick Tompkins, eh, Paia Uia di Tolone, ma la numero 12 la vogliamo dare a, ecco, anche qui siamo andati fuori classifica, ho fatto due eccezioni, due eccezioni per due giocatori che veramente mi fanno innamorare, uno è Federico Ruzza, l'abbiamo detto, eh, e l'altra, l'altra è Beatrice Rigoni, non è stata selezionata nel 15 of the week di World Rugby, la seleziono io e la promuovo a titolare del mio 15 of the week, perché? Perché in maniera hanno qualcosa di simile, seppur in due posizioni diverse, eh, Ruzza e Rigoni, sono due giocatori, eh, estremamente, eh, da un lato pensanti, perché sono due giocatori che utilizzano sicuramente la testa quando giocano, però lasciano ampia libertà al loro istinto, ampia libertà al, al loro tasso di talento. Da un lato sono, eh, eh, dei giocatori intelligentissimi e dall'altro sono dei giocatori, tra virgolette, ignoranti, quella bella ignoranza sportiva, no? Eh, quel, quell'ignoranza che ti, eh, in qualche maniera ti frena le paure e ti lascia seguire i tuoi istinti e quei giocatori che è divertente vedere giocare. E insomma, come è divertentissimo vedere giocare, eh, Federico Ruzza, così è divertentissimo vedere giocare Beatrice Rigoni. E allora scusatemi se mi sono lasciato prendere da queste mie debolezze. Numero 13, Stacy Fuehler del Black Ferns, Henry Slade, a Exeter, Luke Marshall a Alster, ma la nostra numero 13 la diamo a Vicea Nayakalevu di Tolone. Anche lui era in lizza per il miglior giocatore della settimana del Top 14, si prende la numero 13. Numero 14, numero 14, eh, McDou dello Stato Francais, Gary Ringrose, Leinster, doppietta dalla panchina, eh, Jack Noel dei Chiefs, ehm, altra citazione. Però anche qui andiamo al Mondiale Femminile per dare la numero 14 e la diamo a Ruby Tui, a Ruby Tui. Prestazione anche questa, eh, siglata da una doppietta, eh, dall'altra parte, dall'altra ala c'era Portia Woodman che ha fatto una tripletta, però la Man of the Match l'hanno data a Ruby Tui. E allora capirete che la prestazione all around di Ruby Tui per fare sì che potesse superare anche nelle preferenze Portia Woodman è stata di enorme, enorme qualità. Numero 15, numero 15, finiamo quindi con l'estremo, Rola Ridini Avunu, delle Fiji, bellissimo estremo delle effigie, fa, fa, apre lo spazio, eh, per una meta contro l'Inghilterra veramente da, 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 da leccarsi i vaffi nel vederlo. Say Sharks, Joe Carperton, Germain di Bayonne, ma la nostra numero 15 la diamo a Michael Lowry, Michael Lowry di Alster, vi leggo la definizione in inglese. Lowry was a box of tricks, a box of tricks, un magic box, una scatola di trucchi, una scatola di piccole magie. He's lightning footwork, il, il suo footwork, i suoi movimenti di piedi illuminanti. Leaving defenders flailing as Alster return to winning ways. Mi piaceva, così, proprio come l'hanno messa in inglese, così ve la volevo leggere, eh, ci avevo trovato qualcosa di poetico in questa definizione di Michael Lowry. Bene ragazzi, ecco il nostro 15 of the week, spero, spero che eh lo abbiate trovato interessante, come sempre, e ditemi i vostri, ditemi i vostri se mi sono dimenticato di qualcuno, se ci sarebbe stato qualcun altro che avrebbe meritato essere inserito, se vi sono piaciute le chiamate, eh, chi vi è impressionato di più questa settimana. Il mio player of the week lo do a Tomas Ramos, Tolosa. Reminder, reminder, due piccoli ricordatori per voi, amici del canale. Allora, giovedì abbiamo Antonio Raimondi. Vanno, 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 vanno. Giovedì abbiamo Antonio Raimondi. Preparatevi le domande, un'opportunità unica per poter fare delle domande dirette sul canale a eh alla voce, la voce del del rugby italiano. Invece, una buona notizia e un'altra invece meno buona, questa sera non ci sarà la live con Ottavio. Ottavio è in viaggio e purtroppo non possiamo fare la live. Però insomma, direi che gli argomenti sono già stati ampiamente toccati eh ieri con il video di presentazione delle delle convocazioni. Insomma, tanto 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 rugby. Ciao ragazzi, fischio finale, il solito grande grandissimo bacio e ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao.